Un bambino toreton Aspetta! Che vuoi da me? Dove mi stai portando? Sta calmo, se avrei pazienza ti spiegherò tutto Torita Cosa hai detto? Niente, ti ho solo invitato ad avere un po' di pazienza Un bambino parlante? Certo, con te non serve fingere, posso parlare liberamente Devo avere le allucinazioni perché mi sono immerso troppo Non sono allucinazioni, Torita Ma tu parli davvero? Certo, ho qualcosa da dirti Lei! Ma dove hai intenzione di portarti? Andremo nella grotta del picco del cane e là ti spiegherò di chi sei figlio Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!